Subito dopo il terribile terremoto in Turchia è scattata la solidarietà internazionale sotto legida della Nato. Su richiesta della nazione turca, la NSPA di Taranto ha messo a disposizione l'invio di infrastrutture utili alla realizzazione di un villaggio per ospitare migliaia di senza tetto. Siamo nella base Nato di Taranto con il comandante il generale Renato Lepore. In Turchia un pezzo di Taranto che palpita l'aiuto alle popolazioni così duramente colpite. I nostri uomini e i materiali della Nato che custodiamo qui a Taranto sono schierati in Turchia. Abbiamo iniziato il montaggio di villaggi che sono villaggi omnicomprensivi quindi abbiamo dalla sistemazione alloggiativa per la popolazione duramente colpita dal terremoto più anche degli spazi così come ci è stato chiesto dalle autorità turche degli spazi sociali tipo luoghi di ritrovo religiosi per attività scolastiche per socializzare tra di loro in questo momento di crisi. Attualmente sarà pronto per la metà di aprile un primo campo da 2400 posti letto a cui farà seguito in un'altra località un altro campo dai 1600 e a cui farà seguito un altro campo da 4000. Il generale Lepor è appena tornato dalla Turchia da una visita operativa con i suoi uomini coordinati lì in Turchia da Marco Romin. Vedere questa flessibilità di come questi materiali possono essere utilizzati per esercitazioni o per operazioni Nato e come in questo caso per aiuto alla popolazione. Quindi il doppio ruolo militare e umanitario. Un lavoro in Turchia è partito con il trasbordo dei migliaia di container dalla base Nato di Taranto al molo polisettoriale gestito da Ilport San Cataldo Container Terminal. Una proficua collaborazione tra vari enti, sottolinea il generale Lepore. Così come era successo durante il periodo del Covid, la vicinanza anche dall'amministrazione comunale del sindaco, il dottor Mellucci. Abbiamo avuto necessità di vaccinare immediatamente il nostro personale, quindi anche con il Dipartimento di Prevenzione, con il dottor Conversano. C'è stata un'ottima sinergia con l'Agenzia delle Dogane qui su Taranto, con Ilport. Sono stati molto riattivi per far sì che questi materiali venissero immediatamente schierati e caricati sulle navi cargo, con la questura per i vari visti sui passaporti. Insomma, è stata una bella sinergia fra tutte le istituzioni di Taranto.